Ciao ragazzi, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Michele Spanò, sono conosciute web come Storto ma non troppo, il disabile più pazzo del web. Oggi sono qua per presentarvi il mio nuovo canale chiamato Cuoco ma non troppo. Essendo un appassionato della cucina ho deciso di creare questo canale dove vi porterò tantissime ricette, tutte stortine, però buone e anche troppo. Speriamo di deliziarvi con la mia cucina, ovviamente saranno ricette tutte a mio modo. Non vado tanto alle dosi come tutti gli chef con i professionisti perfettini, no no, qua tutte le ricette saranno tutte storte, però storte ma buone, si spera. Ragazzi che dire, mi raccomando se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo per una nuova ricetta. Ciao belli!